Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo spostano alla 6. Ci vede meglio? Forza, Leo! Perché a Leo è nella corsia 6. Ehi, guarda la luce. Bravissimo! 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 Vai, Leo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, vediamo un po' quanto ha fatto. Uno, zero, otto e nove! Bravo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravissimo! Bravissimo! Grazie a tutti.